Buon pomeriggio e bentrovati in questa prima edizione del TG6. E' passato quasi un mese dall'omicidio di Alessandro Neri. Il giovane pescarese trovato senza vita l'8 marzo scorso oggi avrebbe compiuto 29 anni. Le indagini proseguono senza sosta. Il servizio di Paolo Renzetti. Oggi Alessandro Neri avrebbe compiuto 29 anni. Un giorno doppiamente triste per la sua famiglia a poche ore dalla Pasqua e a quasi un mese dalla sua tragica scomparsa. Era il 5 marzo scorso quando il giovane uscì di casa dando appuntamento alla madre Laura Lamalletto per la sera cena. Alessandro invece nella casa di famiglia di Villa Raspa di Spoltore non ha fatto più ritorno. Il suo corpo senza vita fu ritrovato tre giorni dopo in una zona boscosa nei pressi di una stradina brecciata non lontano dal cimitero di San Silvestro. Il giorno prima regolarmente parcheggiata in pieno centro a Pescara fu rinvenuta la sua 500 rossa. Le indagini condotte dai carabinieri del comando provinciale di Pescara sotto il coordinamento della Procura della Repubblica proseguono senza sosta. Gli inquirenti hanno seguito diverse piste senza scartare alcun particolare. Analizzata dagli uomini del RIS di Roma all'auto di Alessandro così come computer e telefonini. Il riservo sulle indagini è assoluto. La famiglia tende di sapere chi ha ammazzato Alessandro e soprattutto perché. Domenica scorsa erano stati anche gli amici del 29enne giovane pescarese a chiedere verità e giustizia in una fiaccolata tenuta per le vie del centro di Pescara. E a ridosso della Santa Pasqua torna la paura all'Aquila. Due scosse di terremoto hanno agitato nella notte scorsa i cittadini del capoluogo abruzzese. Quella di maggiore intensità si è registrata alle ore 3 e 18. Il servizio di Germana Dorazio. A soli sei giorni dall'anniversario del sisma del 2009 torna a tremare la terra nella notte e l'Aquila ripiomba nella paura. Alle 3 e 18 con una magnitudine di 3.8 il capoluogo si è risvegliato nel terrore. La gente è scesa in strada sebbene la scossa non abbia comportato alcun danno. E poi alle 3 e 30 una replica di 2.0 quasi impercettibile ma che ha convinto molti a dormire in auto sotto una pioggia battente. La notte della passione di Cristo si è così trasformata nella passione degli Aquilani. Un destino di ansia e paura a cui nessuno si abituerà mai. Il Comitato Salute Pubblica di Chieti plaude al lavoro del tavolo tecnico che si sta occupando di studiare le possibili integrazioni tra il clinicizzato di Chieti e l'ospedale civile di Pescara. Ma chiede che i due nosocomi vengano messi sullo stesso livello in vista dell'istituzione del DEA di secondo livello nell'area metropolitana. Ascoltiamo Walter Palumbo, rappresentante del Comitato Teatino. C'è un gruppo tecnico che quindi ha già fatto una prima bozza, una bozza che abbiamo avuto per via informale ma che abbiamo anche modificato in alcuni suoi pezzi. Specialmente in uno specchietto che secondo noi deve trovare un riequilibrio fra le uniti operative che dovranno integrarsi per costituire il DEA di secondo livello. Abbiamo fatto e quindi ufficializzeremo questa nostra proposta perché Chieti e Pescara devono essere messe sullo stesso livello in attesa di un prossimo futuro in cui ci sarà un unico ospedale che raccoglierà queste unità che costituiscono un ospedale di secondo livello unico in Abruzzo. Adesso siamo anche soddisfatti che ci sarà una unica sede del 118, quindi sarà unificato il 118, ce ne sarà uno per l'area metropolitana e diciamo che sarà collocata a Chieti questa sede unica del 118. Quindi anche questo riequilibria quelle che sono le funzioni all'interno di questo DEA funzionale di secondo livello. Abbiamo in questa conferenza stampa, noi abbiamo lanciato anche la proposta di un convegno che sarà fatto il sabato 14 di aprile, in cui verranno tecnici da fuori regione, tecnici di alta specializzazione nel campo che ci diranno come e perché fare un DEA funzionale di secondo livello, come può funzionare e come può dare risposta ai cittadini. Ad Avezzano tiene banco nelle ultime ore anche la vicenda del trasferimento del comando di polizia municipale a Palazzo Torlogna. Ieri il sindaco Gabriele De Angelis ha incontrato il presidente della regione, Luciano D'Alfonso. Ascoltiamo il primo cittadino. Io l'ho definita questa cosa una tempesta in un bicchiere d'acqua e lo ribadisco. Il dialogo non manca, c'è stato un confronto sereno, proficuo e per me molto soddisfacente, fatto con il presidente dell'Aggiunta regionale, il dottor Luciano D'Alfonso, col presidente del Consiglio di Pangrazio. Abbiamo chiarito tutti quanti i termini, le procedure amministrative in essere, le condizioni contrattuali già sancite dalla precedente amministrazione, le varie ribadite nelle delibere consigliari. Io sono convinto che poi alla fine faremo la cosa migliore nell'interesse di Avezzano e degli Avezzanesi e anche raggiungendo l'obiettivo, che è un obiettivo per me prioritario, di valorizzazione del Palazzo Arza, ex Arza Torlogna, perché è uno dei palazzi più belli della regione Abruzzo e quindi va valorizzato, ma trovando un progetto che abbia una visione d'insieme che significhi anche sostenibilità del progetto, perché rendere quello spazio attrattivo significa avere anche un'idea che faccia raggiungere questo obiettivo. Per concludere, la data di trasferimento era fissata, mi pare di ricordare, al 31 marzo. Si sa già la nuova data? Noi adesso c'è stata preannunciata una delibera emanata dall'Aggiunta regionale che dovrebbe indicarci alcune nuove condizioni. Noi siamo in attesa di ricevere ufficialmente questa delibera, perché ancora non ne conosciamo i contenuti di dettaglio, e successivamente ci muoveremo, ma ripeto, i contratti non si possono modificare unilateralmente, quindi abbiamo le idee ben chiare per andare avanti, così come voleva andare avanti la precedente amministrazione. La tassa sui rifiuti per il Comune di Lanciano nel 2018 sarà più bassa per le utenze non domestiche e confermata per quelle domestiche rispetto al 2017. Il provvedimento approvato dalla Giunta Comunale è stato illustrato dal Sindaco Pupillo e dall'Assessore Orecchioni. Approvata nel Consiglio Comunale del 28 marzo, la nuova tariffa tari del 2018 è stata illustrata in conferenza stampa dall'Assessore al Bilancio Carlo Orecchioni assieme al Sindaco Mario Pupillo. Il costo della raccolta differenziata scende di circa 90.000 euro su 4.782.255 di costo complessivo relativo alla gestione dei rifiuti in città. Sulle tariffe domestiche si registra un lieve aumento dello 0,7%, mentre per le 1.726 utenze non domestiche che nel 2017 si sono viste aumentare la tassa rifiuti per un calcolo errato, la tassa scende mediamente del 5%. L'amministrazione comunale intende così calmierare il gettito maggiore di 210.000 euro, somma di cui hanno beneficiato maggiormente le utenze domestiche. Abbiamo mantenuto la promessa fatta a maggio dello scorso anno dal compianto vice sindaco Pino Valente, hanno rimarcato Pupillo e Orecchioni. La tariffa di Lanciano resta tra le più basse d'Italia. Il costo medio pro capite del 2018 è di 135 euro, 2 euro in meno rispetto all'anno precedente. Si presenta con questo costo inferiore della raccolta differenziata di circa 92.000 euro, come era stato preso l'impegno lo scorso anno dall'allora assessore Pino Valente nella sua ultima conferenza stampa, era di tamponare, di recuperare quelle somme versate in più da quelle categorie di attività produttive, di utenze non domestiche, a favore di quelle. Quindi il tesoretto lo abbiamo dedicato interamente a loro per ottenere questo sconto del 5% circa. Le utenze domestiche restano grossomodo in invarianza di gettito per l'intero costo Tari. Abbiamo simulato varie possibilità in una famiglia di tre persone, in una casa di 110 metri quadri, ci sarà un aumento di 1,67 euro centesimi da pagare in quattro rate. Quindi il risorto in invarianza di gettito. Il sindaco di Atri, Gabriele Stolfi, smentisce categoricamente le voci che vorrebbero un ampliamento della discarica di Santa Lucia. Tra un anno, annuncia il primo cittadino, quella collina potrà tornare ad essere un prato verde. Il servizio di Jacopo Forcella. Ad Atri si parla molto in questi giorni, in queste settimane, si è parlato dell'ampliamento, del possibile ampliamento della discarica Santa Lucia. Le parole sue del primo cittadino smentiscono che si possa arrivare ad un panorama del genere, lo conferma? Sì, lo confermo assolutamente. Non lo confermo soltanto a parole, ma nei fatti, noi nel 2013-2014, nel nuovo piano regolatore abbiamo ridotto l'area tecnica da 44 ettari e 12 ettari, che sono gli ettari attualmente in utilizzo dalla vecchia e dal nuovo invaso, quello che sta per essere riempito. e abbiamo detto e abbiamo certificato che Atri ha già dato in termini ambientali. Quel territorio ha già pagato un duro prezzo, non entro nel merito poi, insomma, delle varie questioni. Se non si trova una via diversa, ci sarà qualche altro paese, qualche altro comune che farà la discarica. Atri ha già dato a sufficienza, mai permetteremo che questo accadesse. Il Consorzio Pion Baffino, devo dire, ci ha provato, poi la Regione ci aveva provato, poi ha cambiato idea, poi volevano fare ricorso contro il Governo che aveva bocciato il piano regionale dei rifiuti, dicendo che invece la discarica andava ampliata. Insomma, una serie di vicende su cui senderei un velo pietoso. L'unica cosa che posso garantire è che il Comune di Atri ha già dato, ha dato a sufficienza, forse anche troppo, i cittadini di quella zona, non solo, devono ritornare ad essere sereni, a non aver paura, insomma, di malattie o comunque di situazioni che con l'ambiente hanno poco a che fare, visto che le nostre colline sono splendide, la nostra città avrà tanti problemi, ma sicuramente non quello della vivibilità dell'aria e dell'ambiente. Quindi la discarica di Santa Lucia ha fatto il suo tempo, credo che da qui a un anno, cioè non appena l'invaso da 93 mila metri cubi sarà pieno, quella collina tornerà ad essere un invaso verde con alberi, prato, eccetera, e ad Atri non ci sarà più nessuna discarica. Su proposta dell'assessore al bilancio Gilberto Petrucci, la Giunta Comunale di Pene, guidata dal sindaco Mario Semproni, ha approvato il bilancio di previsione per il triennio 2018-2020. Previste tante agevolazioni fiscali per imprese, associazioni di volontariato, ma anche nuove assunzioni per rafforzare l'organico del Comune. Il servizio della redazione di Vestina News. Gilberto Petrucci, assessore al bilancio del Comune di Pene, in Giunta è stato approvato il bilancio per il triennio 2018-2019-2020. Quali sono i punti importanti che si porteranno al Consiglio Comunale del 5 aprile? Intanto sarà un bilancio diverso rispetto agli altri, perché per la prima volta abbiamo inserito una sorta di new deal per agevolare soprattutto i cittadini che risiedono nel centro storico e per le imprese. Intanto abbiamo previsto misure per quanto riguarda l'assunzione di personale, cioè quelle imprese che andranno ad assumere personale a tempo indeterminato a penne, avranno delle agevolazioni e poi per i residenti del centro storico nuove agevolazioni per quanto riguarda appunto premialità rispetto alla residenza all'interno della penne vecchia. Un'ultima chicca che abbiamo voluto inserire proprio per stimolare il commercio, i proprietari di immobili commerciali sfitti che andranno ad affittare i relativi locali avranno delle premialità in termini di riduzione dell'Atari. Strategie, dei punti importanti per far tornare anche il commercio e le persone a vivere in questi posti dell'area vestina? Sì, stiamo attuando appunto, come dicevo, misure importanti proprio per battere, controbattere lo spopolamento del centro storico e poi abbiamo previsto un aumento della spesa per il sociale per un importo del 10% in più rispetto al 2017 e più fondi per la manutenzione delle strade. Poca gente ha partecipato ieri sera alla processione del Cristo Morto all'Aquila, tanti invece i partecipanti che hanno portato per le vie della città i 14 simulacri realizzati dall'artista Remo Brindisi. Il servizio. Con la scorta d'onore al Cristo Morto da parte del personale della prefettura dell'Aquila si è rinnovata la solenne processione del venerdì santo del capoluogo. Tra le strade ancora puntellate del centro storico hanno sfilato i simulacri di Remo Brindisi, raffiguranti il percorso della passione di Cristo. Il vescovo Monsignor Petrocchi nell'Omelia ha parlato del dolore degli aquilani, del tremore delle anime, come quello della terra, sintetizzato nella storia di Gesù Cristo. E di lì a poco sarebbe ritornata la passione con la scossa delle tre diciotto. Per la processione aquilana si è rinnovato il clima di mestizia, austerità e silenzio, previsto dal regolamento della processione dei cavalieri del venerdì santo, che ha ben sposato la latitanza della città. Pochi cittadini infatti a fare da pubblico alla processione, ricca invece di partecipanti, portatori dei 14 simulacri realizzati da Brindisi nel 1954, ancora gioielli dell'arte contemporanea. Ben altra partecipazione da parte del pubblico invece nella processione di ieri sera a Chieti, il servizio di Gino Di Tizio. Nella solita commossa atmosfera che si ripete ogni anno da tempo immemorabile, si è svolto il rito della processione del venerdì santo a Chieti, accompagnata dalle struggenti note del miserere di Saverio Selecchi. Tantissima gente a seguire il mestro corteo, composto dalle dodici confraternite e da quella del Sacro Mondo dei Morti, che, come tradizione vuole, hanno accompagnato i sette simboli della processione, il Gonvalone e le statue di Cristo della Madonna. La processione partì dalle prime ombre della sera da Piazza San Giustino, ha attraversato tra due ali di folla via Poglione, Piazza Valignani, via Cesare dell'Ollis, Piazza Matteotti, via Agnienze, via dei Crociferi, via degli Agostignani, via Toppi, Corso Maruccino, Piazza Valignani, via dei Domenicani, Largo Barbella, via Marcovezio Marcello, Piazza Tempri Romani, via Priscilla, via Ravizzi, via Zecca, Piazza Trenta e Trieste, Corso Maruccino, come tradizione vuole, per tornare alla cattedrale sotto la guida dell'arcivesco Monsignor Bruno Forte. Violinisti e cantori, con il canto del miserere, hanno offerto, come sempre, momenti di intensa emozione e commozione. E' una delle processioni tra le più antiche d'Italia, una tradizione forte che resiste nel tempo e che, ancora una volta, Chieti ha onorato. E quella di oggi è una giornata estremamente significativa per i testimoni di Geova. Questa sera, infatti, nelle varie sale del Regno di Pescara e Provincia, verrà commemorata la morte di Gesù. La commemorazione avverrà questa sera in tutto il mondo, dopo il tramonto. Molto partecipate saranno le cerimonie che si terranno nel Pescarese, che inizieranno con un canto seguito da una breve preghiera. Di seguito ci sarà un discorso del Ministro del Culto, che illustrerà le ragioni per cui mandò suo figlio sulla terra. La cerimonia durerà un'ora. La commemorazione avverrà, oltre che in lingua italiana, anche in inglese, russo, romeno, francese, spagnolo e cinese. Grazie all'ingresso nella comunità dei testimoni di Geova, di numerosi fedeli di altri paesi che vivono e lavorano in Abruzzo. Cambiamo pagina. Presentato a Pescara il progetto MLOL, Media Library Online, la prima rete italiana di biblioteche per prestito digitale, del cui circuito sono entrate a far parte anche le biblioteche abruzzesi. Vediamo. Buone notizie per i nostri giovani, per tutti coloro che vorranno consultare giornali, riviste, grazie a questo strumento nuovo che oggi viene presentato in Regione, Monticelli. Sì, il Media Library Online, l'acronimo MLOL, che dà la possibilità, come ho detto lei, a tutti gli abruzzesi di collegarsi, dopo la registrazione avvenuta in questi giorni, che verrà tramite le biblioteche ex provinciali, poi daremo anche alle APC, le agenzie di promozione culturale e poi anche le biblioteche locali, la possibilità di registrare, avere la password per entrare in migliaia e migliaia di quotidiani internazionali di tutto il mondo, e anche agli audiovisivi, libri, e-book e altro. Questo dà la possibilità di dare un'informazione a tutti coloro, i quali anche sono stranieri che vivono in Abruzzo, perché se noi prendiamo il caso di comunità di albanesi, di tedeschi e altro, hanno la possibilità quotidianamente di leggere il quotidiano di appartenenza alla loro provenienza. Si tratta di un costo relativamente basso, andiamo su 10-11 mila euro, ma che comunque, ripeto, anche il fatto che adesso le biblioteche, le quattro biblioteche ex provinciali, sono diventate regionali, dà la possibilità anche di spermiare tutto questo punto, abbiamo fatto solo un bando di gare, quindi con questa spesa coinvolgiamo quasi un milione e mezzo di cittadini abruzzesi. Ecco, il tempo di registrare, di fare anche un po' di formazione sul territorio, e credo da qui a qualche settimana i nostri giovani, i nostri utenti possono registrare, avere senza costi la possibilità di leggere i quotidiani italiani, i quotidiani internazionali di tutto il mondo, audiovisivi, ricerca multimediale, aperto a tutto, tutto il mondo. È presentato il Summit Festival patrocinato dal Comune di Pescara, che si svolgerà all'Aurum, il cuore pulsante di un festival che dal 21 al 24 aprile abbraccerà l'intera città, nelle zone più nevralgiche, come via Cesare Battisti, zona mercato e piazza della Repubblica. Servizio. Dal 21 al 24 aprile, l'Aurum di Pescara, ospitare il Summit Festival, un evento che vedrà cosa in particolare? Un evento alla prima edizione, L'Aurum è soltanto il cuore centrale dell'organizzazione, che vedrà un calendario di 70 eventi, 60 partecipanti, tra espositori, sponsor, partner tecnici, tanti artisti, musica, un sacco di divertimento e convivialità per grandi e piccini. Abbiamo tanta formazione e coinvolgimento anche per i bambini, a partire da laboratori del gelato, la possibilità di degustare gratuitamente dei gelati, caffè e acqua offerti gentilmente dagli sponsor, da Luca Fè all'Acqua Pulse. Abbiamo sette ristoranti che offriranno menu degustazioni nell'ultima sala alla terrazza Flaiano, sia a pranzo che a cena. L'Aurum resterà aperto dalle 10 alle 24. Abbiamo tutto il circuito di qualità Abruzzo, che ci ha sostenuto anche con la selezione di artisti per quanto riguarda gli show cooking e tutto l'intrattenimento nel food, nella pasticceria. Abbiamo grandi nomi della pasticceria Emanuele Forcone, abbiamo Puca, abbiamo Ida Di Biaggio per la gelateria, abbiamo Anna Rosa Di Maggio per il cake design, tutti i campioni che si sono distinti nel panorama culinario italiano anche all'estero. Questa iniziativa è nata da un'idea appunto mia e di Andrea Salamè, che abbiamo voluto mettere insieme l'orgoglio di essere abruzzesi e la grande potenzialità che ha un territorio come l'Abruzzo di svilupparsi nell'ambito del turismo, perché vogliamo far conoscere l'originalità della nostra terra e far vedere di che cosa sono capaci gli abruzzesi. Apriamo ora la pagina dello sport, ora è di riflessione in Casa Bianca Azzurra per il dopo Epifani, certo ormai il divorzio con il tecnico pescarese, si pensa uno tra Brocchi e Nesta, il presidente Sebastiani ha escluso in via categorica la strada di un ritorno di Zeman. Vediamo il servizio. A Palermo è ormai certo, sulla panchina del Pescara troverà posto un nuovo allenatore, il terzo di questa travagliata stagione. In queste ore la società sta riflettendo sul successore di Massimo Epifani e corsa soprattutto a due con gli ex milanisti Nesta e Brocchi favoriti. Una scelta non facile dopo i dinieghi di De Biasi e Stellone, più defilati i nomi di Pillon, Iaconi, Silva e Mandorlini. Il presidente Sebastiani ha poi smentito per l'ennesima volta un eventuale ritorno a Pescara di Zeman. È chiaro che se un allenatore convocato non si presenta, anche per rispetto dei giocatori e di chi invece si è presentato, mi sembrava il minimo che una società potesse fare, se no vuol dire che diventiamo il palo della cuccagna, non è possibile. Quindi su quello non si torna indietro? Ma noi in questo momento, siccome stiamo valutando delle cose nostre, in questo momento particolare l'allenatore è l'ultimo dei problemi. Bisognerà però fare in fretta perché fra una settimana c'è il match del Barbera, domani intanto, giorno di Pasqua, la squadra si allenerà nel pomeriggio al Poggio degli Ulivi. Se dovessimo arrivare a una decisione la prendiamo in maniera tale che a rientro si possa ricominciare a lavorare già con la decisione presa. Se non dovessimo prendere la decisione vuol dire si va avanti così. Il patrone biancazzurro ha poi voluto comunque sottolineare il lavoro portato avanti nell'ultimo mese da Massimo Epifani, che secondo il presidente del Delfino ha dovuto fare i conti, soprattutto con la sfortuna. Massimo è dispiaciuto perché è pescarese, e quindi questa maglia ce l'ha attaccata alla pelle. Quindi sicuramente immaginava dei risultati diversi in questi cinque incontri che ha giocato. Sicuramente è stato molto sfortunato Massimo, perché in almeno quattro di queste partite poteva raccogliere di più. Per la Serie C è un sabato di campionato. Tra poco sarà in campo il Teramo allo stadio Barbetti di Gubbio. Per le ultimissime io cedo la linea ad Agna Cantagalli, proprio dall'impianto Eugubino. Agna. Grazie della linea Andrea. Teramo tra poco in campo qui allo stadio Barbetti di Gubbio, contro il Gubbio in questa gara fondamentale per la salvezza dei Biancorossi. Squadra confermata rispetto alle attese. Palladini lancia subito titolari Caidi, Speranza e Milillo in difesa. In Porto ovviamente c'è calore, visto il problema di Bifulco. Confermato la linea in mediana composta da Ventola, Graziano, De Grazia e Varas, che sostituisce lo squalificato Sales. Confermata anche la linea d'attacco con Bacio, Terracino, Gondò e San Domenico per l'appunto a comporre il Trident. C'è anche il neoacquisto Ricci in Panchina, nuovo portiere dei Biancorossi, ex Pistoiese ed ex Pontedera. Dicevamo gara fondamentale per la salvezza del Teramo, che perlomeno deve tenere a distanza il Gubbio distante. Per l'appunto tre punti dalla squadra di Palladini, ma è chiaro che vincere sarebbe un colpo importante per il Teramo qui al Barbetti, per compiere un passo probabilmente decisivo in ottica permanenza della categoria. Proseguiamo con la Serie D. La vittoria sul Fabriano dà autostima alla squadra in vista del finale di campionato. Il direttore sportivo della Vastese, Francesco Micciola, auspica che la squadra possa riprendere lo slancio della prima parte del campionato per poter centrare i play-off. Sarebbe un grande traguardo per un gruppo molto giovane. Vediamo. Direttore, una vittoria attesa, voluta, messa magari in pericolo da quel calcio di rigore trasformato dal Fabriano, ma poi è uscita la maggiore volontà forse della Vastese di vincere quest'oggi. Sì, noi oggi ci tenevamo a vincere perché volevamo dedicare la vittoria al tifoso scomparso tanti anni fa. La Curva ci ha chiesto questo. Siamo contenti perché questa è una vittoria che ci dà autostima per ripartire perché nell'ultimo periodo stiamo andando male. Quindi, siccome abbiamo una squadra giovanissima, la più giovane del torneo, abbiamo risentito un po' di questo pure. Lei si è dato una spiegazione per questo giro, noi di ritorno un po', anzi, completamente diverso rispetto al giro di andata. Sì, le squadre si sono rinforzate tutte. Noi abbiamo fatto degli acquisti, noi il giro di andata siamo andati oltre le aspettative con l'entusiasmo, la spregiudicatezza perché siamo una squadra molto giovane. Sicuramente a dicembre abbiamo sbagliato qualcosa. Ho sbagliato io, ho sbagliato il mister, lo staff tecnico, sicuramente abbiamo sbagliato qualcosa. Speriamo che ci riprenderemo, però non dimentichiamo che questa è una squadra giovane e noi siamo partiti pure per l'obiettivo salvezza. Adesso ci troviamo lì e faremo di tutto per stare lì in alto. Finisce qui la prima edizione del TG6, le prossime in onda alle ore 19 e alle ore 23. Grazie per l'attenzione e buon proseguimento con i programmi di TV6. Grazie per l'attenzione e buon proseguimento.